E' proprio vero, ogni sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. Chi può capire e contare la grandezza delle dimensioni della nostra vita? Noi siamo sempre molto più di quanto comprendiamo, di quanto accettiamo, di quanto ricordiamo. Noi siamo sempre dei veri mendicanti e quindi abbiamo bisogno di lasciarci guidare da quel Dio che si fa compagno di strada proprio perché ci liberiamo da quel vero peccato originale che è cercare l'affermazione di sé nella forza e non nella debolezza, da soli senza farci aiutare. I fatti sono i piccoli che comprendono il mistero del Regno. E oggi ringraziamo Dio per il dono di Don Luigi Giussani che in modo personale, anche per chi tra noi non lo ha conosciuto personalmente, ma in fondo sempre in modo personale è arrivato a noi. E' stato sapiente perché si è fatto piccolo nelle mani di Dio alle quali si è affidato totalmente, in cui ha creduto e che ha mostrato vivo a tanti cuori. Tutto è possibile per chi crede, afferma Gesù e ci testimonia Giussani. E pensiamo Giussani proprio come il padre di quel ragazzo di cui abbiamo ascoltato nel Vangelo. Lui che si è fatto padre di tanti, che voleva fossero se stessi, padroni di sé e non come quel ragazzo che era preso da tante convulsioni, che non era padrone di sé. liberi da ciò che imprigionava il loro cuore, dalle risposte ingannevoli, Giussani, proprio come il padre del Vangelo, non accettava che i suoi discepoli non guarissero quel ragazzo. E lui, subito, senza incertezza, con la passione con cui lo ricordiamo e che tanto ha comunicato, ad alta voce, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, cioè per sé e per gli altri, senza timore, come un'affermazione forte della propria fede, senza compromessi e tiepidezze, dice, disse, credo, aiuta la mia incredulità. credo, aiuta la mia incredulità, sembra contraddittorio credere ed essere incredulo. la fede, in realtà, è sempre una dimensione di ricerca continua, di domanda, ma anche di affermazione, credo. Chi cerca, chiede aiuto, non si spaventa della propria debolezza, della propria miseria, del proprio peccato, anche dei dubbi. e allo stesso tempo può affermare la propria fede. E l'aiuto di Gesù è stata proprio la compagnia. Gesù gli risponde spiegando che il potere lo abbiamo noi, non se posso io, perché tutto è possibile a chi crede. Il problema è credere e quindi credo aiuta la mia incredulità. Così libera dallo spirito muto e sordo e quel ragazzo che non comunicava, non ascoltava, non si esprimeva, era solo, incontra di nuovo una compagnia. E la compagnia ci ha fatto ascoltare parole nuove, piene di amore, ci ha reso capaci di un linguaggio diverso. È il dono della fraternità che ha cambiato la nostra vita, di quel primo che ci ha reso fratello, che è il nostro fratello, che è Cristo, e che ci ha donato questa compagnia. Ci ha fatto scoprire l'altro, capirlo, ci ha fatto gustare la gioia di legarsi, ci ha reso capaci di parole nuove. Giussani usava frequentemente l'espressione compagnia. Erano per lui persone, e lo sono state fino alla fine una compagnia che Papa Benedetto definiva affidabile. Disse Papa Benedetto nel 2006, il cristiano viene inserito in una compagnia di amici che non lo abbandonerà mai, nella vita e nella morte, perché questa compagnia di amici è la famiglia di Dio, che porta in sé la promessa dell'eternità e lo accompagnerà sempre, anche nei giorni della sofferenza, nelle notti oscure della vita, gli darà consolazione, conforto, luce, gli darà parole di vita eterna. E' sempre Papa Benedetto, eh? Parole di luce che rispondono alle grandi sfide della vita e danno l'indicazione giusta circa la strada da prendere. Fondamentale quando non si sa dove andare. E quindi per la libertà, che non è quella di andare dove non si sa. Offre consolazione e conforto, l'amore di Dio anche sulla soglia della morte. Gli darà amicizia, gli darà vita. E questa compagnia, sempre Papa Benedetto, eh, assolutamente affidabile non scomparirà mai. Nessuno di noi, di noi, sa che cosa succederà nel nostro pianeta, nella nostra Europa, nei prossimi 50, 60, 70 anni. Ma su un punto siamo sicuri. La famiglia di Dio sarà sempre presente a chi appartiene a questa famiglia e non sarà mai solo. Avrà sempre l'amicizia sicura di colui che è la vita. Questa compagnia di amici è eterna, perché è comunione con colui che ha vinto la morte, che ha le mani, che ha in mano le chiavi della vita. Essere nella compagnia significa essere in comunione con Cristo, che è vita e dà amore eterno oltre la vita. Ho letto questa lunga parte nella riflessione di Papa Benedetto, anche per ricordarlo, con lui. E per quella sintonia profonda che lo univa Don Giussani, del quale celebrò la liturgia delle sequie, l'addio. Ma che cos'è questa compagnia? È aperta, perché è piena di Cristo, ma è anche vera, fisica, non idealizzata, non in forme. È una compagnia di volti, di persone. Credo, e ho visto anche delle foto che anche nella mostra di Santo Stefano, che anche un po' impietosamente rivelavano anche che gli anni erano passati, per cui ogni tanto ho trovato qualcuno, dice ma non è possibile, eccetera. Vabbè, ecco, questo rivela. Però credo per molti è una compagnia, diciamo che ha accompagnato un po' tutta quanta la vita, no? Guai alle compagnie che diventano virtuali, proiezione delle nostre convinzioni e che non si misurano con le contraddizioni dell'umano e non lo sanno amare. L'altro, umano com'è, che qualche volta è anche un po' indisponente, noi lo pensiamo degli altri, poi ovviamente dobbiamo pensare che anche noi siamo indisponenti per gli altri, ma ci amiamo così. Ed è questo che ci cambia, che ci aiuta a cambiare. Gesù è la compagnia che supera il peccato, che abbraccia il figlio fallito e disobbediente e prepara una festa per lui, perché è tornato in vita. Compagnia non di puri, ma di innamorati di Cristo e quindi attenti a tutto ciò che è umano, perché anche questo, per certi versi, fa parte della compagnia. Tutto ciò che è umano e ne ha sempre un eco profondo nella compagnia, suscita interessi, legami, liberamente, perché è la scelta individuale, come per quel ragazzo che ritrova se stesso, che è padrone di sé, che comincia a parlare, ma non da adulti, indipendenti e interscambiabili, ma è sempre da figli e da fratelli, come sempre un cristiano. E' questa la prima Galilea della chiamata, dove Papa Francesco vi ha chiesto di tornare, ma non per rinvangare il passato, quando si ha qualche difficoltà sul presente si butta su revival, che qualche volta sono anche un po' penosi, ma per capire la grazia che ci ha accompagnato e che viviamo oggi, che ci ha protetto qualche volta anche contro noi stessi. E tornare nella Galilea ci aiuta a scegliere il futuro e a ritrovare l'amore dell'inizio e non far vincere la mediocrità e la tiepidezza dell'adulto o la rassegnazione amara e disillusa del vecchio, insomma, per non smettere di sorprenderci di tanto amore e di continuare a viverlo oggi. La nostra compagnia, diceva Giussani, è un segno e nessun segno è perfetto, perciò la nostra compagnia è piena di imperfezioni non esageriamo, ci stanno, nemmeno ci scandalizziamo le nostre, perdoniamoci, diceva Don Giussani è sempre così, perfetto è Cristo e l'essere suoi ci rende perfetti, non noi ed è sempre una compagnia affettiva diceva Giussani, tra noi c'è un'unità più grande di quella che avevo con mio padre, mia madre, mio fratello e le mie sorelle una unità per cui il tuo destino è desiderato con la stessa identica passione con cui desidero il mio abbiate cura di farla crescere questa compagnia mettendo al centro sempre Gesù sempre Gesù c'è una seconda caratteristica propria della compagnia che è la gratuità l'amare, diceva Don Giussani, non è veramente amare se non è totalmente gratuito e la gratuità, è sempre lui, implica l'esonero l'illusione di qualsiasi tipo di calcolo di tornaconto per questo nessuno è tanto grande come chi dà la vita per l'opera di un altro ognuno di noi, sempre Don Giussani è chiamato a far nascere questo popolo a dilatare questa compagnia a comunicarla agli altri e ognuno è chiamato a questo perché la gente che è sempre sola anche quando impazzisce nelle feste trovi la pietà di una fraternità trovi un amore per questo è possibile solo nella gratuità perché l'amore è sempre solo gratuito e la compagnia diventa servizio gratuito al mondo la caritativa non è una buona azione un volontariato ma è parte di questa compagnia e diventa amicizia relazione, condivisione come ha fatto Cristo che, cito Giussani per amarci non ci ha mandato le sue ricchezze come avrebbe potuto fare rivoluzionando la nostra situazione ma si è fatto misero come noi ha condiviso la nostra nullità ecco che cos'è allora la caritativa è vivere questa condivisione ed è una sfida perché non dovete perdere la motivazione questa e allo stesso tempo dovete crescere nelle responsabilità per capire e penso a quante a quanto la caritativa ha dato di frutti ma al di là dei risultati che a Don Giussani non interessavano anzi metteva in guardia il vero risultato è la carità stessa che poi dà vita per esempio a delle cooperative ma non smette di essere creativa e piena di carità è quello che ci sfida oggi a continuare a crescere e a vivere questa compagnia con i tanti di cui che hanno bisogno di qualcuno finisco con una cosa che mi aveva divertito anche anche un po' sorpreso durante un incontro un ragazzo racconta di aver dato del denaro a una donna molto povera e di essere rimasto negativamente colpito dal fatto che quella donna lo abbia usato per comperarsi un rossetto Giussani gli rispose che non aveva capito nulla della condivisione perché non accettava il bisogno dell'altro ma voleva imporre il proprio schema moralistico è un po' come la storia dei cioccolatini per qualcuno non capiva che in quel momento per quella donna poteva essere un reale bisogno quello di sentirsi più curata più bella ecco che cos'è la compagnia piena di carità e se la viviamo non farà mai invecchiare la caritativa e la renderà parte integrante della fraternità Giussani vi conceda di tornare vi aiuti a tornare sempre nella Galilea a ripartire dal seguimi a lavorare nella messe drammatica di questo mondo come artigiani di pace come ci ha ricordato all'inizio Luca per comporre questa compagnia tra gli uomini nella quale gli uomini sperimentano la compagnia di Dio grazie